buongiorno anche in periodo di pandemia non molliamo mai never give up siamo sempre pronti a fare prevenzione oggi ci sono venuti a trovare due amici due grandi fuori classe del calcio ve li presento giorno deve sempre fare il controllo in ogni caso ciao buongiorno tutti dovete sempre fare contro ottimo grazie ragazzi ciao